Sindaco, quindi la bretella è inaugurata ma ovviamente riguardo all'aeroporto di Comiso non bisogna ovviamente fermarsi qui. C'è di ieri la notizia della rendicontazione, per quanto riguarda la Camera di Commercio ci sono alcune polemiche sollevate anche da parte del VUssia che incide negativamente anche contro la Soaco. Ma guardi, l'affermazione che è uscita fuori come comunicato stampa dalla Camera di Commercio riunita di Catania, Siracusa e Ragusa in realtà è una cosa che sta nei fatti. Sostengono appunto, il direttore Agen innanzitutto, che si debba fare una ricapitalizzazione subito dopo questo piano di ristrutturazione e soprattutto dopo che sarà arrivata a termine la liquidazione di InterSac Holding. Ma questa cosa sta nei fatti. L'aeroporto purtroppo, la gestione dell'aeroporto è andata così tanto in perdita nei cinque anni che la ricapitalizzazione è una cosa che si deve fare ed è per questo che più volte io ho detto e per fortuna ho trovato veramente un interesse vivo da parte di alcuni colleghi sindaci, in testa a tutti sicuramente il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, con il quale interloquisco sempre in maniera piana, diretta e ci intendiamo su molte cose sul fatto che il 35% che detiene attualmente solo il comune di Comiso non può rimanere solo sulle spalle del comune di Comiso perché dinanzi ad una ricapitalizzazione, seppure di non troppi milioni di euro, il comune di Comiso col suo bilancio tra l'altro cagionevole perché esce fuori da uno stato di dissesto finanziario non ce la farebbe e quindi Comiso ha gridato aiuto agli altri comuni della provincia, le altre comuni della provincia hanno detto eccoci, ci siamo e quindi dobbiamo stare tutti calmi, non c'è nulla di grave, nulla di esiziale sta nelle cose ricapitalizzare una società che purtroppo ha perso anno dopo anno